Fratta candidata a uno dei borghi più belli d'Italia 2020, come è nato questa idea, questo progetto? Allora il progetto nasce su iniziativa proprio della RAI che ci ha contattato per candidare Fratta a questo programma. È stato un lavoro di due mesi, ben due mesi, dove con la RAI abbiamo costruito la trasmissione perché loro ovviamente non conoscono il nostro borgo, la nostra città e abbiamo dovuto noi costruire passo per passo la realizzazione della trasmissione. Oggi, questi due giorni, abbiamo già fatto le riprese con i droni, oggi e domani faremo le riprese qui nel nostro borgo e abbiamo costruito un programma ricco, cerchiamo di dare il meglio di Fratta e io vorrei approfittarne per ringraziare i cittadini che hanno risposto, hanno voglia che Fratta emerga e che tutti vedano le bellezze della nostra città, per cui la cittadina ha risposto, tutti sono qua in piazza a urlare votate Fratta Polesine e speriamo che tutti i polesani e tutti i veneti urlino votate Fratta Polesine in modo da fare vincere finalmente un borgo del nord a settembre. Cosa avete deciso di raccontare di Fratta? Allora, il format della trasmissione prevede solo la presentazione di alcuni degli aspetti più importanti. Noi ovviamente abbiamo presentato il nostro gioiello, che è la Villa Badoer, e Casa Museo Matteotti principalmente, mentre la Chiesa Parocchiale, che è un altro gioiello bellissimo, che magari non molto conosciuto dai turisti, è stato ripreso sia all'esterno sia all'interno con i droni, per cui i nostri tre gioielli andranno in trasmissione. Poi le cose importanti della nostra città sono sicuramente la rievocazione storica, la rievocazione storica della carboneria e infatti fra alcuni minuti i nostri attori, seguiti dalla regista Selene Farinelli, faranno qualche scena della rievocazione storica che noi presentiamo ad ottobre nella nostra città. Grazie mille. Grazie a te, grazie a voi.